Le sfide dell'autonomia dovranno essere affrontate insieme. Trento e Bolzano dovranno insomma abituarsi a parlare al plurale e far prevalere il noi rispetto all'io. Lo ha detto ad Aldeno il presidente della provincia Ugorossi che col senatore Alto Tesino Francesco Palermo e il sindaco Nicola Fioretti ha affrontato il tema della revisione dello statuto. Una risposta non troppo velata a Luis Durnwalder che sull'ente regionale si è sempre mostrato molto freddo. La riforma garantirà il principio dell'intesa, è stato detto, ma non per sempre. Per questo è necessario mettere mano allo statuto. Dovremo ripensare il ruolo della regione, dovremo cercare di ampliare le nostre competenze, dovremo anche essere capaci di lavorare su più fronti. cercando di allacciare sempre un rapporto stretto con i governi perché l'autonomia naturalmente si difende e si valorizza anche giorno per giorno e non solo dentro i grandi processi di revisione costituzionale. Per il senatore Palermo la revisione dello statuto rappresenta un'opportunità. Ogni tanto prevalgono più le paure che sono anche legittime e comprensibili, ma bisogna rendersi conto che c'è bisogno degli strumenti giusti per mantenere i territori a un livello di competitività sufficiente.